Ben trovati, oggi è mercoledì ed è un giorno nefasto per Taranto e per Lecce o per alcune famiglie di questi territori perché sono stati arrestati il presidente della provincia di Taranto, il suo assessore all'ambiente Conserva e Gianni Florido, il numero uno di palazzo della provincia della città ionico Salentina, ma ha arrestato ai domiciliari anche l'attuale dirigente della provincia di Lecce e dottor Specchia che all'epoca era il direttore della provincia di Taranto, perché queste manette per alcuni facili e per alcuni invece giuste, perlomeno per la procura che ha emesso l'ordinanza di reclusione, per il caso Ilva, perché una parte dei dirigenti della provincia di Taranto erano contrari ad autorizzare una discarica che era stata richiesta proprio dagli stabilimenti di Riva e in questo caso, in quella situazione ci sarebbe stata la pressione anche con minacce di licenziamento, con richiesta di lettera di dimissione da parte degli esponenti chiamati in causa oggi per i loro arresti. Voglio fare due riflessioni differenti, innanzitutto l'Ilva ha potuto fare ciò che ha voluto, lo abbiamo detto più volte, grazie all'accettazione della classe politica, ma anche di chi doveva vigilare che non rappresentava la politica in questi decenni la garanzia lavorativa e quindi occupazionale e ambientale della città. Tutti forse hanno avuto degli interessi a far fare all'Ilva, quando prima era statale e poi privata in quanto acquistata dall'imprenditore Riva, hanno dato la possibilità a questi soggetti di fare ciò che ritenevano più opportuno adempiere o meno per la garanzia ai cittadini tarantini. L'altra riflessione è che forse se la magistratura non fosse intervenuta con questa azione violenta che ha rischiato anche e ha avuto la chiusura in alcune fasi dell'attività lavorativa nel corso degli ultimi mesi, alcuno si sarebbe posto il problema vero della questione ambientale e della questione lavorativa della città della nostra regione. Qualcun altro ipotizza come sempre queste indagini che hanno un riscontro così elevato e nazionale poi porteranno qualche magistrato ad avviare la propria carriera politica. È stato così per Tangentopoli, non solo per Di Pietro ma anche per Colombo e Drambrosio, è stato così per l'attuale sindaco di Napoli, io ritengo e spero che non sia così per i magistrati che stando in modo oculato indagando su quelle distorsioni che hanno prodotto questi drammi regionali e principalmente drammi anche umani e sanitari proprio del capoluogo ionico. Ma perché bisognava arrestare conserva, florido e specchia, quest'ultimo ripeto ai domiciliari? Qual era la necessità? Perché dopo un anno si pensa di dover rendere effettiva la carcerazione di due esponenti politici e di un tecnico. Se ci sono prove, se si è indagato in un certo modo, si vada a processo, li si condanni e li si metta in carcere. Io sono garantista sempre, non come alcuni che a secondo della convenienza e dell'idea politica sono giustizialisti o meno. Florido io l'ho conosciuto in occasione delle trasmissioni, non ho mai avuto un rapporto personale al di là della mia attività, così come ho incrociato due o tre volte l'assessore conserva e il dirigente specchia. Per cui non ho alcuna tipologia particolare di rapporti con questi. Ma il carcere è una cosa che segna un uomo e qualora, come tanti casi ci sono stati, dovessero essere superflue queste azioni di custodia cautelare, segneranno questi uomini in modo definitivo per il resto della loro vita. Ecco perché non sono mai concorde a queste azioni così vessatorie della libertà personale. Indagate, processate e condannate, in questo paese troppe volte si fa giustamente o ingiustamente la carcerazione preventiva e in carcere non va più nessuno, non va più nessuno di coloro che hanno commesso reati gravi e magari si mette in carcere una mamma che ha rubato del latte in polvere perché non aveva i soldi per sfamare il proprio figlio o la propria figlia. Non serve la carcerazione preventiva per bastonare, serve il carcere vero quando e se è necessario e se si individua un reale colpevole. In ogni caso speriamo che il governo Letta non trascuri la situazione taranto, così come ha tentato di non farlo il governo Monti, ma non se ne sa più nulla su quelli che dovrebbero essere gli investimenti di questo paese per bonificare una industria che deve probabilmente rimanere sul territorio per non gettare per strada 20.000 famiglie con relative ipotesi di suicidio per disperazione. Lo Stato deve esserci ovunque, anche in Puglia, anche nel Salento, principalmente a Taranto. A domani. Grazie per la visione!